Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di Affitti Brevi in 30 giorni. Io sono Ludovico Cianchetta-Vasquez, il fondatore di B&B Academy, l'accademia di formazione per affitti brevi più grande d'Europa, e oggi parleremo di un tema molto importante che abbiamo affrontato tantissimo all'interno del corso, che ha appassionato moltissimo la nostra community e che ho deciso di portare anche oggi qui sul nostro canale YouTube. Ovviamente in forma ridotta, perché abbiamo pochi minuti e non avrebbe senso essendoci ore e ore di lezione, ma comunque affrontando un tema importantissimo, ovvero quello di lavorare da soli o lavorare con dei soci. Ovviamente parleremo di questo tema declinato agli affitti brevi. Alcuni concetti secondo me riguardano in generale il lavorare con dei soci o meno, cioè sono regole che potreste applicare in realtà per qualsiasi tipologia di business, però nello specifico io mi occupo di affitti brevi e quindi magari alcune casistiche che andremo a vedere sono appunto relative agli affitti brevi. Fate tesoro di quello che vi sto per dire e partiamo subito con il video. Molto spesso le persone quando iniziano un'avventura imprenditoriale sentono il bisogno di farsi accompagnare in questa avventura da un qualcuno, che può essere il proprio partner, può essere un familiare, può essere un amico, e magari in preda un po' all'ansia, alla paura, ma anche all'eccitazione dell'avviare questa cosa, vogliono condividere questo percorso con un'altra persona, magari una persona alla quale vogliono bene. E questo talvolta può essere un errore, perché alla lunga, quando le cose magari iniziano a farsi importanti, rilevanti, sia in termini di mansioni che in termini soprattutto di guadagni, poi nascono i primi screzi. Infatti la maggior parte delle aziende che falliscono, di norma falliscono proprio per litigi tra i soci. Ed è importante, secondo me, e ve lo dice uno che ha fatto tantissime aziende con soci, grazie a Dio quei quali non litiga, capire quali sono gli elementi tali per cui ha senso avere un socio o non ha senso avere un socio. Partiamo dal presupposto che non esiste una risposta giusta o sbagliata, cioè non è che è giusto partire da soli o è sbagliato partire da soli, così come non esiste una risposta univoca al partire e lavorare con dei soci o meno, perché ogni casistica è a sé. Ciò che è importante distinguere innanzitutto è la tipologia di socio, perché un socio può essere finanziatore, quindi principalmente mette il denaro, può essere un socio operativo, quindi fa fisicamente un qualcosa per mandare avanti il business, come ad esempio chiamare le agenzie immobiliari per acquisire gli immobili, e poi esiste il socio che è sia finanziatore che operativo. Quindi facciamo questa distinzione. Un socio finanziatore di solito mette del denaro e non fa nient'altro, quindi può essere un socio che lavora con noi da qui al resto dei nostri giorni, perché ha finanziato la nostra opera e lo portiamo avanti con noi, o può anche essere semplicemente che facciamo un accordo tale per cui lui ci presta 10.000 euro, gliene ridiamo 15 e finisce lì. A questo punto sarebbe più un prestito di denaro, un finanziamento, però qualsiasi persona che crede in noi, secondo me può essere definita un socio. Che crede in noi e che ovviamente ci aiuta a sviluppare la nostra idea, non un semplice supporter morale. Però vi ricordo che questo business ha un grandissimo vantaggio, ovvero quello di poter essere avviato e anche cresciuto all'investimento zero, grazie al property management, ovvero la gestione di proprietà altrui in cambio di una percentuale. Quindi non è obbligatorio spendere del denaro, anzi, talvolta secondo me è anche quasi controproducente. Ovviamente esiste la sublocazione che richiede del budget neanche troppo elevato, e allora a quel punto se uno non ha il denaro o non vuole spenderlo, può aver senso trovare dei soci finanziatori. Ma se il tuo unico scoglio è quello economico, ovvero non hai il denaro da investire per fare questa attività, allora buttati a capofitto sul property management, dove puoi acquisire immobili ad investimento zero e di conseguenza puoi guadagnare ad investimento zero. E non dico iniziare a guadagnare, ma parlo proprio di guadagnare potenzialmente all'infinito. Così abbiamo studenti, B&B Academy, che hanno costruito aziende che valgono centinaia di migliaia di euro basandosi sul property management. Quindi hanno costruito aziende che oggi potrebbero vendere a mezzo milione di euro, 700 mila euro, forse anche un milione, ma sono aziende che sono cresciute letteralmente spendendo zero, perché hanno acquisito interi portfolli in property management. Ciò non significa che la sublocazione non sia un'opportunità e non significa che sia sbagliata, anche perché all'interno di B&B Academy la trattiamo con ore e ore e ore di corso. Semplicemente siate consapevoli che non è necessario del budget per iniziare questo business e di conseguenza non è indispensabile neanche avere dei soci finanziatori. Dall'altra parte anche i soci operativi spesso si ritrovano lì perché magari pensano potrebbero darmi una mano a... ma a parte che gran parte del business è automatizzabile, quindi non è di certo necessario avere un socio che va a consegnare le chiavi all'interno degli immobili. Assolutamente sbagliato. E spesso le persone si ritrovano a mettersi in società anche solo per compagnia, perché ah sì è il mio amico delle scuole superiori, sai mi sta molto simpatico. No, chi se ne frega è un tuo amico rimane un tuo amico, è la tua fidanzata rimane la tua fidanzata. Anche perché rischi di rovinare non solo il rapporto lavorativo ma anche il rapporto personale in caso di problemi. E quindi come capiamo se effettivamente noi abbiamo bisogno di un socio, se è giusto o meno? Beh, secondo me ti devi porre principalmente due domande. Ovvero, potrei fare questa cosa senza questa persona? Quindi potrei avviare il mio business di affitti brevi anche senza questa persona? Sì, no. Se la risposta è no, non posso avviare il business senza questa persona, beh allora quella persona è indispensabile e deve diventare un tuo socio. Se la risposta è sì, posso farlo anche senza questa persona, beh quel socio non è indispensabile, puoi farne benissimo o meno. E la seconda domanda è, questa persona mi permette di raggiungere degli obiettivi? Molto più alti rispetto a quelli che potrei raggiungere in autonomia? Oppure questa persona mi permetterebbe di raggiungere questi obiettivi molto più velocemente? Magari nella metà del tempo? Magari da solo ci metto cinque anni, con questa persona ce ne metto due? Beh se la risposta è sì, allora potrebbe valerne la pena. Ma se la risposta a questi quesiti è no, quindi posso farcela da solo, ci metto lo stesso tempo a farmelo da solo, eccetera eccetera eccetera, Allora questi non sono dei soci, sono delle zavorre che vi state portando dentro, solo ed esclusivamente perché avete paura a fare una cosa da soli, vi piace l'idea di poter contare su qualcuno, perché se no la tua ragazza si offende, eccetera eccetera eccetera. Sbagliatissimo, non fate questo errore. Anche perché all'inizio è tutto molto bello e divertente, ma poi quando sorgono i problemi e quando si iniziano a guadagnare bei soldi, beh è lì che l'avere un socio può diventare molto problematico. Perché quando sorgono i problemi le persone tendono a lavarsene le mani e quindi a non aiutarti e ti ritrovi magari da solo o da sola ad affrontare delle difficoltà e tu pensavi di poter contare su quella persona. E il caso completamente opposto è quello dei guadagni, ovvero quando inizi magari a guadagnare 10-15 mila euro al mese e ti chiedi ma aveva senso partire a lavorare con questa persona, adesso potevo mettermi in tasca 10k e me ne devo mettere in tasca la metà, 5 perché ho deciso di partire con un socio del quale avrei potuto benissimo fare a meno. Altro discorso importantissimo è quello di quanta percentuale dare a queste persone e di quanti soci siamo, perché poi non è che i soci sono sempre due, possono essere anche di più. Per quanto riguarda la percentuale, beh tutto deve essere rapportato all'importo che una persona investe o all'apporto che una persona dà, cioè non necessariamente essere soci significa 50-50. Io con il mio socio ho fatto tante aziende al 50-50, su determinate aziende ci siamo resi conto invece che il suo apporto non sarebbe stato nell'ordine del 50%, magari sarebbe stato nell'ordine del 15% e quindi lui ha acquisito il 15% di quella società. Dall'altra parte delle volte magari invece ci siamo resi conto che abbiamo fatto un errore, ovvero gli abbiamo dato una percentuale troppo bassa e il suo apporto è stato maggiore. Quindi è importante analizzare molto bene quanto vale l'apporto di quella persona e quindi non basarsi semplicemente sul siamo in 2, facciamo 50-50 o siamo in 3, facciamo 33-33-33. Ma è importante dare percentuali in base all'apporto che una persona dà. E poi c'è il secondo discorso, ovvero in quanti soci siamo? Mi è capitato di avere a che fare con aziende di vario genere, sia di affitto breve che di qualsiasi altro business, dove i soci magari inizialmente erano in 5. Io ho detto ragazzi ma per avviare un'agenzia di property management, essere in 5 non serve a niente. Eh ma lui fa le foto, lui cura il sito web, lui le piattaforme, lui le agenzie immobiliari, lui le imprese di pulizia. Sì ma capite che partire con un progetto che vale 0 inizialmente ad essere in 5, significa che se anche dopo 3 mesi arrivi a guadagnare 10.000 euro al mese, che è una cifra magnifica che può letteralmente cambiare la vita di molti e che in tantissimi studenti B&B Academy sono riusciti a raggiungere, diventa in realtà una cifra inutile, perché 10.000 euro al mese diviso 5 persone sono 2.000 euro a testa. Quindi capisci che non serve letteralmente a nulla essere in 5 persone. Ora se hai un'azienda enorme, dopo anni puoi decidere di vendere le tue quote e fare entrare dei nuovi soci e a quel punto ha senso. Ma partire da 0 secondo me in più di 3 soci è veramente inutile. Anche perché non dimenticatevi che se avete bisogno di un fotografo potete comunque trovarlo a letteralmente pochi euro da investire e inizialmente voi potete occuparvi un po' di tutto. Dopodiché crescete, iniziate a delegare, iniziate ad automatizzare, iniziate a collaborare con altre persone ed ecco che queste mansioni, tra virgolette, possono essere svolte da altre persone che non necessariamente devono essere soci. Cioè, essere soci non significa ah vabbè così almeno non devo pagare qualcuno perché oggi non lo devi pagare ma un domani quella quota potrebbe valere talmente tanti soldi che forse ti conveniva pagare un qualcuno di esterno. E poi tornando al discorso del property management ovvero di poter guadagnare ad investimento zero il vantaggio è che anche successivamente quando inizierai a guadagnare cifre importanti non dovrai spartire questo denaro con altre persone. Mentre magari adesso appunto parti con un qualcuno che ti aiuta dopo un mese, due mesi sei indipendente ma ti ritrovi a dover contribuire o meglio a dover suddividere gli incassi a vita con questa persona qui. Immaginati che magari per aver avviato oggi un progetto che tra due anni vale un milione di euro devi dare il 50% di quella roba lì a qualcuno solo perché ti ha dato una mano all'inizio e poi magari non ha più contribuito a questa cosa qui. Sarebbe veramente una follia. Quindi l'avere un socio deve essere un qualcosa di non dettato da circostanze temporanee. Non deve essere un qualcosa di ah ne ho bisogno adesso ma devi essere molto proiettato o proiettata sul futuro e capire se sul lungo termine questa è una cosa di cui tu puoi avere bisogno o meno. E poi un altro errore che fanno spessissimo le persone quando partono è il non contrattualizzare questi rapporti di collaborazione. Magari dici sì vabbè ma io mi fido di lui, di lei ma sappi che le persone quando ci sono di mezzo ai soldi cambiano completamente ed è importantissimo contrattualizzare qualsiasi tipo di collaborazione. Ovviamente all'interno di B&B Academy trovi tutti i contratti di cui tu puoi aver bisogno per collaborare con agenti immobiliari amici, parenti, proprietari di casa eccetera eccetera eccetera. Sono frutto di cinque anni di formazione quindi abbiamo aggiunto qualsiasi tipo di contratto di cui la nostra community potesse aver bisogno. Quindi mi raccomando non lasciare nulla al caso e contrattualizza tutto dalla A alla Z anche se è la persona di cui ti fidi di più al mondo o è la persona di cui sei super innamorato o innamorata anche perché domani la relazione potrebbe finire ma il lavoro invece potrebbe dover continuare quindi è importante avere tutto scritto nero su bianco. E poi un'altra questione di cui spesso le persone sono ignare è che essere soci, collaborare eccetera 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 non significa necessariamente dover avere una società assieme. Può anche essere tutto frutto di una scrittura privata che ha comunque valenza legale e quindi puoi decidere di avere un socio o socia anche magari iniziando come persona fisica piuttosto che con una normalissima partita IVA forfettaria o partita IVA ordinaria ed individuale. Esiste anche la possibilità della SRL ovviamente ed assolutamente ma si può essere socio e collaborare in mille formule diverse che ovviamente spieghiamo dentro B&B Academy anch'essa. Insomma siamo giunti alla fine di questo video. Il riassunto in parole povere è se pensi di poter raggiungere questi risultati in completa autonomia fallo se invece pensi di avere bisogno di qualcuno ed è indispensabile circondati di uno o più soci. Contrattualizza sempre qualsiasi tipo di collaborazione o socio barra socia e mi raccomando pensaci attentamente perché potrebbe essere un'esigenza attuale ma magari tra qualche mese potresti già non averne più bisogno. A tal proposito io ti ricordo che qua nella descrizione trovi dei contenuti gratuiti fondamentali per partire o scalare il tuo business di affitti brevi contenuti che hanno permesso a tantissime persone di capire se questo business potesse fare al caso proprio o meno. Al termine dei contenuti gratuiti ti chiedo una grandissima cortesia e devi mettere un bel mi piace a questo video e iscriverti al canale. E se vuoi farmi sapere qualcosa o hai qualche tipo di domanda commenta questo video e ti risponderò nel prossimo Q&A. Da Ludovico Cianchetta Vasquez fondatore di B&B Academy è tutto ci vediamo nel prossimo video.